Buongiorno mister, che tipo di insidie può presentare la gara di domani, considerando il fatto che Ravenna viene da tre sconfitte consecutive da un cambio d'allenatore, quindi diciamo che difficoltà ulteriori si presentano davanti, anche se poi la Pimpine è sicuramente una squadra alla portata della San Benedetto. Sì, situazioni particolari, dopo sempre un cambio d'allenatore, perché ci sono sempre delle incognite, magari per quel che riguarda il modo di affrontare la partita, il modulo eccetera, però abbiamo fatto una buona settimana e sono contento del lavoro che abbiamo fatto e cerchiamo di migliorare le cose che non vanno soprattutto nostre, poi sappiamo che comunque Ravenna ha dei giocatori importanti, quindi non è che non hanno fatto squadra, perché Mokulu, Martignago e De Grazia li ho allenati, quindi so il valore di questi giocatori, sono dei giocatori importanti della categoria, hanno fatto anche categoria superiore, quindi sicuramente non hanno una squadra dei sprovveduti. Senta mister, lei quando ha detto ci sono delle cose che ancora non vanno, quali sono queste cose che non vanno e che vanno migliorate prima possibile? Ma migliorate nel senso, per quanto riguarda anche il possesso, di essere un attimino un po' più incisivi nel momento in cui dobbiamo verticalizzare, più concreti e comunque nelle fasi in cui facciamo magari un po' più fatica di cercare di non buttare via la palla e gestirla meglio, però sono tutte cose che in 16-17 giorni è difficile sistemarle subito, però piano piano con la fiducia, con i risultati magari riescono a sfociare meglio. Buongiorno mister, ritrova Leonardo Colucci che è appena subentrato a Magi, dopo tre anni e a quel momento in ottobre 17 quando lei si leva sulla panchina del Mestre e pareggiò a Pordenone 2-2. Tra le altre cose la Samb non ha mai vinto contro Leonardo Colucci in panchina, una sconfitta a Reggio Emilia 2-0 quattro anni fa, poi due pareggi in casa con il Pordenone e con la mister Colucci, 1-1 a Pesaro lo scorso anno, quindi un motivo in più. Meglio così, è un nostro duro, lo so, infatti me la ricordo bene la partita di Pordenone 2-2 sotto via Politti, è una gran partita sotto la pioggia, quindi me la ricordo, era una squadra messa bene in campo, facevano anche il 4-3-3, quindi vediamo, l'importante come ho detto prima è che facciamo bene le cose nostre, poi le cabale sono fatte per essere smentite, quindi speriamo che sia il giro giusto. Per Paolo Flammini. Grazie a voi. Sì, buongiorno mister, se ci può dare il quadro dei giocatori disponibili, Vota e Lopez, come stanno? Sì, adesso abbiamo l'ultimo allenamento, quindi vediamo un attimo pomeriggio, abbiamo qualche incerto, c'è qualche defezione, Vota sta meglio, Maxi sta meglio, forse più Vota che Maxi, bisogna vedere le condizioni di scrugli, c'è qualche dubbio ancora, quindi vediamo, abbiamo per fortuna un altro allenamento dove poter valutare, quindi è importante che anche questa volta siamo tutti negativi, è quella roba più importante, poi qualche defezione c'è sempre, come in tutte le squadre, però siamo fiduciosi, chi andrà in campo darà il massimo e starà sicuramente al top rispetto a chi è rimasto fuori, cerco di proseguire questa linea. Scusi? Chacon sempre indisponibile? Chacon sta meglio, sta meglio, abbastanza meglio, sì sì, poi vediamo il pomeriggio, però dai, è importante che andiamo con la testa giusta, al di là dei singoli, proseguo sempre con il discorso di far giocare chi è in migliori e in perfette condizioni, poi se sarà il caso di rischiare qualcuno lo vedremo con lo staff medico. Michele Natalini? Anche perché appunto è in previsione poi domenica, mercoledì, domenica, preferirei avere tutta la rosa, l'attacco soprattutto con più numeri rispetto alla domenica scorsa dove eravamo veramente centelinati. Buongiorno, le volevo chiedere se è orientato a fermare il modulo di sabato sera oppure se un eventuale ritorno a 352 dipende anche dalle condizioni di D'Angelo? Sì, sì, dipende un po' dalle condizioni di qualche elemento per non avere appunto poi i problemi di cambi, però diciamo che ha funzionato un po' meglio il modulo di sabato, quindi stiamo progredendo in tutte e due le direzioni, l'importante è che continuino a mettere dentro movimenti, rapidità, velocità nell'eseguire le azioni veloci. Poi il modulo lo vedremo anche magari in corsa, però l'importante è che assorbano bene i carichi di lavoro che abbiamo fatto e che riescano a velocizzare, riusciamo a velocizzare la malovra, però ripeto, abbiamo fatto sporadicamente contro la Vispesaro, contro il Perugia, conto di essere, di avere queste cose un po' più costantemente durante la partita, è quello un po' l'obiettivo, cercare di essere più intensi possibili, sia in fase di possesso che in fase di non possesso. Grazie. Grazie a te. Volevo chiedere al mister se effettivamente questo discorso del modulo viene adottato a seconda di quelle che sono le caratteristiche della squadra avversaria e quindi se domani il fatto di affrontare Ravenna potrebbe essere equiparato a quello che invece è avvenuto il sabato scorso con la Vispesaro. Sì, non è rispetto all'avversario, è proprio un conteggio dei giocatori, domenica, sabato scorso ho rischiato perché comunque anche nel secondo tempo abbiamo mantenuto il 3-4-3 sul 2-0 che potevo benissimo chiudermi, però non ho voluto anche per dare un segnale di coraggio per vedere fino a che punto la squadra aveva coraggio di continuare ad affrontare gli avversari uno contro uno, comunque in vantaggio, però ho visto una cosa positiva, delle cose positive e cerco di infondere questo. È un modulo abbastanza pregiudicato che dà i suoi frutti, però va fatto bene. Adesso essere intensi 90 minuti è dura dopo poco più di due settimane, però siamo sulla buona strada e conto di andare avanti così. Buongiorno mister, volevo chiederle, in tanti ora si stanno anche pronunciando su quelli che sono i rinvii sempre più numerosi dovuti al Covid, anche in molti allenatori hanno mostrato qualche dubbio sulla regolarità della competizione, qual è il suo punto di vista al riguardo, visto anche che naturalmente si pensa ora subito alla Vispesaro, però poi c'è il punto interrogativo del Legnano dopo l'Arezzo, potrebbe essere un po' complicato. Sì sì no, purtroppo la cosa che mi dispiace a me è proprio essere in questa piazza e non viverla, capito? Cioè nel senso non avere la possibilità di avere allo stadio i tifosi, perché penso che per una natura sia la cosa più bella avere una piazza del genere con quello stadio pieno, con 6-7 mila tifosi e purtroppo è questo a me che mi dispiace, che manca, perché ci darebbe quella spinta. Purtroppo il fattore campo non esiste e noi ci giriamo intorno. Puoi giocare a San Siro ma se è vuoto è come se andassi a giocare in qualsiasi altra parte d'Italia, non cambia niente, quindi è quello il brutto. Poi per chiudere, io chiuderei per questo perché purtroppo c'è la mancata di tifo, ti rende tutto surreale, brutto, cioè è inutile che ci giriamo intorno. Poi per il resto noi comunque stiamo veramente in una bolla, non abbiamo negativi neanche questa volta, complimenti comunque ai ragazzi perché vuol dire che veramente stanno dentro casa, pensano solo al calcio, al pallone e tornare dentro casa, quindi avere meno contatti possibili, addirittura anche con fidanzate, eccetera, perché magari hanno dei casi a casa, quindi bisogna... per il momento continuiamo così, noi cerchiamo di essere più precauzionali possibile, cauti e cercare di essere, di star bene, però è dura perché qualche febbre la prendi adesso con questo tempo, però la cosa che mi dispiace è veramente lo stadio vuoto. Per quelle squadre che hanno avuto più continuità, diciamo, che hanno potuto giocare naturalmente con più continuità, può essere un managgio determinante proprio. Sì, certo, anche questo influisce molto perché tante squadre, vedi appunto Arezzo, sono già tra quattro partite che non giocano, il Legnago penso che non giochi neanche la prossima, e quindi alti e bassi sicuramente il campionato non è regolare, però non è regolare neanche quello dell'anno scorso se guardiamo bene, quindi... grazie. Grazie a voi. Volevo chiedere quale difficoltà ci può portare nel match di domani con il Ravenna, soprattutto per le caratteristiche di questa squadra che sicuramente ha un potenziale offensivo importante con Mucullo, Pepetti e Martignano. Sì, è un attacco secondo me uno dei più importanti della categoria, come la Bispesalo quando è al completo, sono squadre che hanno fatto tutti squadra, poi magari non sono le squadre come il Padova e Perugia che hanno due squadre, tre squadre, quando sono in undici sono pericolosi, hanno delle defezioni, il cambio dell'annatore sicuramente influirà nella concentrazione della terminazione e quindi sicuramente era meglio se non cambiavano, però noi dobbiamo pensare a noi e cercare di dare continuità e saper rimanere sul pezzo, è questo che dobbiamo puntare noi, cercare di battere il ferro finché è caldo e andare avanti per la nostra strada senza guardare se sono squadre di livello, se squadre top, squadre di bassa classifica, adesso dopo dieci partite conta veramente poco questa cosa, anche se gli equilibri comunque cominciano a venire fuori e abbiamo visto chi sarà protagonista e chi non sarà protagonista. Volevo chiedere se per caso aveva fatto caso al fatto che domani si giocano anche Feralpi-Salopado e Modena sul Tirolo oppure la Samba è meglio che in questo momento non guardi troppo… No, noi dobbiamo cercare di fare più punti possibili senza guardare gli altri, anche se abbiamo una partita in meno, una roba o l'altra, niente conti, concentrarsi bene sul presente, cioè non si fanno programmi nella vita e figuriamoci nel calcio che dura molto meno della vita in generale, quindi sono su questa idea, partita per partita, 11 stanno meglio, gli altri tutti a disposizione per dare una mano e questo è il mio credo e andiamo avanti per questa strada qua. Poi quando sarà gennaio-febbraio valuteremo altre cose, ma per il momento testa bassa e pedalare sempre. Grazie. Pietro Lucadelli. Sì, mister, buongiorno. Buongiorno Pietro. Lei che ha il polso della situazione, appunto i giocatori hanno acquisito la mentalità che comunque possono giocarselo con chiunque, io ti faccio sempre la stessa domanda. Ma sì, perché noi non possiamo attendere assistere agli allenamenti, non abbiamo, diciamo, forza della situazione. Sono convinti della loro forza, al di là delle assenze, al di là, diciamo... Sì, esatto, stanno acquisendo questa intensità che chiedo e si rendono conto che se riescono a stare compatti e uniti possono far male a parecchie squadre, l'abbiamo visto soltanto dopo una settimana insieme col Perugia, quindi è col suo tiro dopo tre giorni, quattro, quindi consapevoli di questo. Però, come hai detto tu, noi ce la possiamo giocare con tutti, ma anche gli altri ce la possono giocare con tutti, anche se per il momento hanno una classifica deficitaria. E quindi... Un punto per questo, non conviene giocarsi alla sempre? Sempre, sempre, in qualsiasi momento, e bisogna stare pronti. Qualsiasi cosa, che sia positiva o che sia negativa, bisogna abbassare la guardia, e cercare di tenere la testa attiva e dentro la partita, perché la partita dura 100 minuti, 95 minuti, e può succedere sempre di tutto. Hanno perso una Coppa dei Campioni nei tempi supplementari a Monaco quella volta, il Bayern. Quindi la partita è sempre imprevedibile, non bisogna mai mollare niente, bisogna sperare sempre nell'errore dell'avversario, anche se magari dai tutto per scontato, mai dare per scontato niente, questo è il mio credo.